Ciao a tutti amici e amiche di Barbie Show! Oggi nuovo unboxing e apriremo Barbie Dream Tropia e Unicorno Magiche Luci più di 25 tipi di luci e suoni e come si può vedere da questi dettagli vediamo già dove saranno le luci e i suoni guardate che colori anche lo sfondo vediamo c'è un castello, un arcobaleno, le nuvole e qua se giriamo, giriamo, vediamo cosa c'è dietro c'è già un'anticipazione di quello che fa questo cavallo, questo unicorno scusate rigiriamo e apriamo questa scatola super colorata e romantica ed ecco il set fuori dalla scatola allora sono comprese la Barbie con il gelatino che ha in mano l'unicorno e una scatola con le istruzioni da qua si possono vedere i vari tipi di suoni che fa il nostro unicorno che adesso andiamo a provare giusto? allora a parte i colori che sono bellissimi sono i miei preferiti lilla, viola, rosa ci sono le glitte guardate allora è leggermente truccata guardate è un ombretto lilla il cuoricino con questi occhi carinissimi la criniera arcobaleno e anche la codona tutta super morbida poi 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 qua ha una collana piena di stelle, perle e qui in rilievo ci sono delle stelle bellissimo, bellissimo allora primo suono basta toccare l'unicorno guardando le istruzioni vai Daniele o Anna Chiara? ripremi ancora vediamo se mi fa un altro tipo ah vedi con i vari colori musica la canzoncina bellissima wow una canzone disco bravissima wow guardate che bello prova ancora? io direi di mettere un po' di luci suffuse così si vedono ancora meglio le luci dell'unicorno che dite? dai prova wow si continua a illuminare le cose vai posso provare? vai io provo da qua wow che bello è bellissimo e poi come ultimo qui si vede che se si offre il gelatino fa un altro rumore allora barbie vai pure questo è un tiro si si basta wow allora la barbie riprende sempre un po' i colori dell'unicorno ha i capelli rosa medio lunghi in testa una bellissima coroncina di perle bianche e una collana rosa 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 ha un corpetto con dei glitter bianco e viola e ci sono delle stelline disegnate non è in tessuto è disegnato quindi non si può togliere mentre la gonna che parte da qui è in tessuto in velo tutto colorato anche qui ci sono dei glitter e da qui sotto partono dei leggings bianco e andiamo giù 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 che guardiamo le scarpe se vedete c'è anche una stellina la vedete? ecco qui la stellina dei bei particolari per quanto riguarda i movimenti allora questa ha una mano tesa e una mano piegata rigide mentre le gambe con sorpresa si piegano così infatti può andare a cavallo per fortuna una cosa positiva bene a noi questo set è piaciuto per i colori le musiche i suoni questa magia la magia che rende quando mangiava il gelato mi è piaciuto perché se volete acquistarla guardate giù c'è il link in descrizione quindi pollicione in su e noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao 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 Since the day I live in a dream I live in a dream We live in a dream